Noi sotto l'albero abbiamo portato una manovra economica che finalmente restituisce, invece di portare via, e poi serenità. Serenità e buon santo Natale a tutti, sperando che nessuno si offenda, perché ormai siamo in tempi strani, quindi buon santo Natale a tutti quanti. Auguri, auguri a tutti i Lombardi, anche noi abbiamo fatto una buona manovra, non abbiamo aumentato nonostante qualcuno ci accusasse di quello, anzi abbiamo ridotto la imposizione fiscale, auguri cari concittadini, auguri perché sarete grandi anche l'anno 21 e continuerete a tenere alta la Lombardia.